riluco ma non è meglio che metti l'estendibile demo pato per farlo sentire inferiore alemo in play si vuole basso alessandro occhi chiocca cosa il fruto il sito chi temo smerla descrivetelo che non ci sono una nuova da faq ne ho tolto neanche un po' di vita solo poca poca cosa che è successo? scarzo quitta scarzo quitta scarzo quitta che figura di merda